Jessica Notaro si è sposata. Il 18 settembre, la modella è convolata a nozze con il fidanzato Filippo Boglioni, campione di equitazione. La cerimonia si è tenuta a Torino, nella reggia di Venaria Reale, come in una perfetta favola, cavalli bianchi e carrozza compresi. Penso di aver vinto la mia battaglia e ritrovato il mio equilibrio, aveva detto la sposa prima del suo grande giorno, parlando del compagno che le ha ridato fiducia nell'amore e a cui è legata dal 2019. Nel 2017 il suo ex l'aveva sfregiata in modo irreversibile lanciandole dell'acido sul viso. La cerimonia da favola di Jessica Notaro e Filippi Boglioni. Jessica Notaro, per le nozze con Filippo Boglioni, ha scelto una delle location più romantiche nel Torinese, la reggia di Venaria Reale. E, come in una perfetta favola, ha raggiunto il luogo scelto a bordo di una carrozza guidata da cavalli bianchi. Poi è scesa e ha percorso la navata fino a un arco di rose bianche, dove è avvenuto lo scambio delle promesse d'amore. Non ho smesso mai di credere nei sogni e ho fatto bene perché la risposta oggi è qui davanti a me, ha detto Jessica al marito. I due si sono conosciuti nel 2019 a Fiera Cavalli Verona, lo stesso luogo in cui il campione d'equitazione le ha fatto la proposta nel 2022. Real Video vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto.